E' stata ritrovata la minicooper utilizzata dai malviventi che lo scorso giovedì mattina hanno tentato una rapina al terminal Aliscafi e danni di un portavalori che trasportava 500.000 euro destinati agli uffici postali delle Isole Olie. I poliziotti l'hanno rinvenuta nella giornata di domenica nel parcheggio di un condominio di via Colonnello Bertè. E' lì, non lontano dal porto di Milazzo, che i banditi l'hanno lasciata dopo il fallito colpo. Presumibilmente avevano lasciato nelle vicinanze una seconda autovettura con la quale hanno poi perfezionato la fuga. In quel parcheggio, lontana dagli occhi delle forze dell'ordine, l'auto è rimasta qualche giorno. I condomini non l'hanno notata subito, in quanto il posto occupato non veniva utilizzato con frequenza. Notando che però nessuno veniva a recuperare quell'auto estranea al palazzo, i sospetti sono venuti immediatamente a galla. Sono quindi partite le segnalazioni alle forze di polizia che sono intervenute in quel parcheggio, notando che la minicooper in questione era proprio quella utilizzata dai rapinatori che avevano aggredito il portavalori al terminal Aliscafi. L'auto è risultata rubata in precedenza, adesso viene passata al setaccio dagli inquirenti nella speranza di trovare elementi utili per risalire all'identità della banda che, giovedì scorso, ha seminato il panico tra i pendolari in attesa di imbarcarsi per le olie.